Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori Oggi è mercoledì 23 maggio 2018 e questa è la rassegna stampa di Fano TV in diretta alle 7.30 Buongiorno anche a coloro che ci seguono in replica nelle varie fasce orarie della giornata Vi ricordo velocemente andremo in replica fino alle 8.30 Poi dopo la messa alle 9.10, alle 11 e l'ultimo passaggio alle 13.30 Poi però come sempre se avete voglia di rivederlo o ve la siete persa anche in questi orari C'è sempre la possibilità on demand di vederla quando volete sul sito internet o con la notizia.it Oppure direttamente sulla pagina di Facebook, quella di Occhio alla Notizia Dove tra l'altro siamo già arrivati a quasi 17.000 mi piace sulla pagina di Occhio alla Notizia E altrettanti circa 17.000 su quella di Fano TV Poi abbiamo l'altra pagina invece dei reporter di strada 4.000 passa reporter, tutti con occhi aperti e orecchie tese per vedere, segnalare tutto ciò che accade attorno Quindi insomma una bella comunità quella di Fano TV che davvero ci rende onorati e orgogliosi Andiamo dopo questi convenevoli, andiamo a vedere il santo del giorno Il santo di oggi è San Giovanni Battista dei Rossi, è stato un sacerdote Il sole è nato nei dintorni di Genova nel 1698, morì nel 1764 e fu canonizzato da Leone XIII Nel 1881, il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.35 minuti Il tempo, questo tempo che sta mettendo a dura prova i nervi di ciascuno di noi Non solo, anche il fisico perché con tutta questa umidità, questa pioggia Non so se siete meteoropatici, insomma però vi lasciate condizionare dal tempo Il vostro umore varia a seconda del tempo Ma se il vostro umore cambia a seconda del tempo ed è triste o nervoso Quando piove in questo mese insomma si è abbastanza nevrotici Perché? Perché anche oggi è previsto cattivo tempo Rovesce temporali sparsi, localmente di forte intensità Soprattutto nel pomeriggio i fenomeni saranno più intensi lungo la fascia costiera Domani, giovedì 24, la protezione civile delle Marche indica ancora durante la prima parte della mattinata Brevi rovesci sparsi, poi i fenomeni si limiteranno soltanto alla catena appenninica nel pomeriggio Soprattutto il primo pomeriggio O un po' di buon umore dovrebbe arrivare quindi soltanto nella giornata di venerdì 25 maggio Quando il cielo si rasserenerà su tutta la costa adriatica E per chi vive in montagna c'ha il beneficio del paesaggio Quindi teoricamente dovrebbe essere contento anche se c'è qualche nuvoletta Venti di brezza leggera, poca cosa L'alta pressione di origine africana, ecco l'alta pressione condizionerà invece i prossimi giorni Quelli di domenica, lunedì eccetera eccetera Con tempo stabile soleggiato per tutto l'intero fine settimana E anche per i giorni successivi Dunque insomma il fine settimana dovrebbe essere dedicato al primo sole, al mare Tra l'altro abbiamo fatto vedere ieri un servizio nel telegiornale Per lo meno per quanto riguarda le spiagge e il concessionario di spiagge afanesi Si stanno organizzando, di conseguenza si stanno preparando per sistemare tutte le spiagge Gli ombrelloni, ho visto in molte spiagge già sono presenti Quindi potrebbe essere la prima vera giornata di sole e di mare Allora andiamo a leggere i giornali Partiamo dal Corriere Adriatico Con l'edizione di Pesaro in primo piano la rotatoria con sorpresa a Loreto Nuovi parcheggi Oggi parte l'operazione viabilità via aiuole e segnaletica Poi arriveranno in New Jersey Discoteche a centropagine e Movida saranno sorvegliate speciali La prefettura di Pesaro potenzia i controlli sulle strade del divertimento Guerra al volume alto, quindi ai decibel E anche all'uso degli alcolici Saranno impegnati agenti e polizia di Stato e polizia municipale La tragedia di Porto Sant'Elpidio con il raptus di quell'uomo Che ha sparato in faccia alla moglie, anzi l'ex moglie Erano tornati da poco insieme, oggi c'è la convalida dell'arresto Questo uomo è finito in carcere e dopo le fucilate Il suo avvocato dice Peppe distrutto e confuso Lei era malata, racconta l'avvocato Ancora la voleva aiutare Però a un certo punto ha perso la testa Che fine hanno fatto i soldi degli SMS solidali E parliamo di terremoto Ebbene, in questo interessante articolo Pubblicato sul Corriere Adriatico A firma di Martina Marinangeli Si può leggere dettagliatamente tutte le cifre importanti Che permetteranno di realizzare una serie di interventi Distribuiti tra le province di Macerata Che è la zona più colpita dal terremoto Poi Ascoli, Piceno e Fermo Tra cui c'è anche in questa distribuzione La creazione del polo scolastico di Sant'Angelo in Pontano Per cui sono previsti 2 milioni e mezzo di euro Insomma in tutto 18 milioni Vedete il titolo per le strade Poi per realizzare 7 eli superfici E anche, come dicevo, per le scuole Incendio a Fano TV Battaglia legale Il PM ha chiesto 3 rinvii a giudizio Per le difese i reati sono insussistenti Il giudice disponga, dicono gli avvocati della difesa Il proscioglimento Decisione che verrà presa però tra un mese C'è stato un confronto serrato ieri In punto di diritto, scrive Lorenzo Furlani Piuttosto sui fatti storici Approdato a richieste diametralmente opposte Rinvio a giudizio, secondo l'accusa Proscioglimento per le difese Ieri, per chi non lo sapesse, appunto Si è svolta davanti al giudice del Tribunale di Pesaro Francesco Messina L'udienza preliminare per l'incendio a Fano TV Secondo l'accusa Il rogo che la sera del 23 marzo del 2017 Di Van Paul ingresso dell'emittente televisiva fanese Situata in via Borsellino Sarebbe stato ordinato da Antonella Zaccarelli Per una vendetta d'amore contro il collaboratore dell'emittente Lino Balestra che lì lavora Fano, la pagina del Corriere Adriatico Si occupa dell'aeroporto e della commissione Che ha chiesto il piano industriale al presidente Ruggeri dell'aeroporto Chiede il piano industriale Atteso entro l'anno il bando dell'Enac Ha ascoltato l'amministratore appunto Ruggeri La Valle del Cesano invece Via sconnesse Rivolta sul web Ora ci paghino i danni alle auto Aumenta il malcontento popolare Qualcuno deve ricorrere all'officina Le strade principali sono della provincia Mentre il comune di Terre Roveresche resta in silenzio La pagina del Senigallia racconta invece dell'acquazzone Della bomba d'acqua che si è abbattuta sulle città limiti Trofea Senigallia E che soprattutto hanno creato problemi su quelle strade Che sono vicine ai campi agricoli Torrenti di fango dai campi Schianto sull'asfalto trappola Smottamenti sull'Arceviese Dopo l'acquazzone incidente fra tre auto Una giovane è rimasta ferita Tutto è successo intorno alle 14 di ieri L'acqua ha trascinato sull'asfalto Un ingente quantitativo di terra e fango Mentre transitava una macchina Scrive Sabrina Marinelli sul giornale di questa mattina La ragazza al volante che è una senigalliese Ha dovuto frenare bruscamente Poi però dietro c'era una sua collega di lavoro Con un'altra automobile Che purtroppo non ha visto Che questa collega ha dovuto frenare in tempo Che ha frenato di botto E quindi cosa è successo? La temporata, poi dietro c'era un'altra macchina Insomma è rimasta ferita ad una gamba Questa ragazza di Quest'altra giovane di San Costanzo Mentre quello dietro è un senigalliese Un ragazzo senigalliese Che ha temporato la seconda E poi ha spostato la seconda Verso la prima Insomma un temporamento a tre E questo invece è il filmato Per farvi capire un po' Com'è la situazione ieri Com'è la situazione Quello che ci è arrivato Da uno dei nostri reporti di strada Qui siamo a Calcinelli Vedete la grandinata Che ieri si è abbattuta Con tuoni, fulmini e lampi Nella giornata Questo però si riferisce Non alle due del pomeriggio Ma a quello che c'è stato dopo Il passaggio temporalesco Delle 18 circa Dalla Valle Foglia invece Sempre dal Corriere Adriatico È stata presentata ieri a Pesaro La seconda edizione Della Fiera di San Michele Arcangelo Che si terrà a Talacchio Da venerdì a domenica Presenti delegazioni croate Lettoni Ucchielli Il sindaco di Valle Foglia Dice che saranno coinvolte 50 imprese In questa iniziativa Mentre il presidente Della provincia Tagliolini Punta a ricordare Invece che le scuole Saranno protagoniste Di questa iniziativa Che tra l'altro Porta anche un nome importante San Michele Arcangelo Ora andiamo a Fossombrone Invece Perché la web Reprimenda del sindaco Gabriele Bonci Sta facendo discutere Sui rifiuti abbandonati Ora scatteranno A Fossombrone Le multe Almeno così Ha annunciato Il sindaco Bonci Sanzioni salate E otto telecamere Per monitorare Le isole ecologiche Ma soprattutto Il sindaco Bonci Ha detto una cosa Molto importante Che è una provocazione Però è vero Se ci pensate La provocazione è questa E Bonci ha scritto Ma scusate In casa vostra L'immondizia Voi la buttate per terra Silenzio Cinque secondi Per pensarci Hai ragione Bravo sindaco La rotatoria Con sorpresa Andiamo nel quartiere Di Loreto A Pesaro Ecco la fotografia Di riferimento C'è questa rotatoria Sperimentale Del diametro Di 26 metri Con otto Parcheggia Discorario Insomma C'è anche Oggi partono Questi lavori Per la sperimentazione Si comincia Dalla rimozione Del segnale Dalle aiuole Poi l'asfaltatura E l'installazione De New Jersey L'ingresso In via Ugolini E a quanto pare Nessun ripensamento Su questa rotatoria Mobike In cassa E rilancia Ne sono arrivate Altre 200 Di queste biciclette Parcheggiate In perfetto ordine Anche se qualcuno Si è lamentato Del fatto che qui Ostruivano Vedete Il passaggio Il camminamento Quindi mi pare Che ho visto una foto Da qualche altra parte Che siano state Leggermente spostate E hanno dato quindi La possibilità Di passare A piedi Senza problemi Mentre Gianni Galdenzi Che è il comandante Dei vigili urbani Dice Stono Per i rinforzi Stagionali In sei vigili urbani Saranno assunti Per i prossimi Cinque mesi Tutti operativi Fin dai primi giorni Di giugno La Movida Dicevamo Movida Sorvegliata speciale Per l'estate La prefettura di Pesaro Potenzia i controlli Sui locali Strade del divertimento In campo Agenti di polizia Sempre di età Più giovane C'è qualcosa che non va Fumo Vietato nei parchi Invece Sempre da Pesaro Dal Corriere Adriatico Avanti tutta Legambiente scende in campo A sostegno dell'ordinanza Annunciata dall'assessore Foronchi Per i trasgressori Previste multe Da 25 a 500 euro Controlli difficili Ma il segnale Sarà comunque forte Andiamo adesso invece Sull'ultima pagina Del Corriere Adriatico Che noi prendiamo In esame Ovviamente le pagine Sono molte Sono tante Tantissime Quelle del Corriere Nel quotidiano Che è trovata in edicola Però noi ci limitiamo Soltanto ad alcune Piccole imprese Questa è la buona notizia Fatturati in crescita Indagine su circa 3.000 aziende Della provincia Di CNA Istat Trendmark E università In dieci anni Persi 7.000 posti di lavoro E l'occupazione Non decolla Come le vendite online Però c'è questa Ripresa economica Che viene comunque Certificata Anche dalla crescita Dei fatturati Delle imprese locali Una goccia nel mare Sì Una goccia nel mare Ma intanto Serve anche per Un po' Per tirarci un po' su Andiamo adesso invece A vedere Il resto del Carlino Il resto del Carlino Questa mattina Si occupa di una donna Che i pesaresi sicuramente Conosceranno benissimo Marina Che ha 45 anni Vive per strada E dorme Pericolosamente Sotto le automobili Il titolo è Aiutiamola Dentro troverete La sua storia Litiga con l'autista Invece dell'autobus E cade Muore dopo due giorni Di agonia A Villa Grande Di Monte Coppiolo La tragedia Di un 73enne Che l'anziano Si era scontrato Con il conducente Durante una gita Verso l'eremo Ha battuto la testa Il decesso In rianimazione Però adesso Scatta l'indagine Per omicidio colposo Palazzetti invece È ai domiciliari Potrà uscire Lavorerà Alla biblioteca Liveriana E anche alla fondazione Rossini Da Pian del Bruscolo L'iniziativa Di questo fine settimana Talacchio La seconda edizione Della fiera di San Michele Diventerà la fiera Della genialità Ucchielli cavalca l'idea La Piana E il cuore Della vallata Da Urbino invece La società di Piero Guidi Ha revocato il nome E il logo All'Urbino Press Award Una decisione Già comunicata Agli organizzatori E anche al sindaco Gambini Dunque si dovrà Necessariamente cambiare La concessione scaduta Già inviata La disdetta formale A chi ha sostenuto Il prestigioso Premio Mentre da Pian di Meleto La storia O la vicenda Di Don Giorgio Don Giorgio Dice messa Con i ladri In casa Don Giorgio Savarino Gli sono stati rubati I soldi Per iniziative Di beneficenza Ma c'è stato Un doppio colpo Dei ladri La settimana scorsa A Pietrarubbia E a Pian di Meleto Ai danni proprio Di due parruci Il primo Don Gabriele Appunto Il secondo E Don Giorgio Savarino Savarino I furti I furti sono avvenuti Nel primo caso Venerdì scorso Nel secondo Domenica invece In ambedue i casi Nelle abitazioni Attigua Le parrocchie Dei due religiosi Mentre questi Stavano recitando La messa Glielo passiamo Ma evidentemente Recitando la messa Non è proprio il massimo Celebrando forse Sarebbe stato più corretto Un ponte sopra i binari Andiamo invece A Marotta Un ponte sopra i binari Del treno Se facciamo in fretta Possiamo ottenerlo I 5 stelle di Marotta Si rivolgono al sindaco Reto e Ferrovia Italiana Ha i soldi E quindi chiediamoglielo Di fare Perché pensate Che sono stati stanziati A RFI 13 miliardi di euro Sì 13 miliardi di euro Due dei quali Sono destinate Al miglioramento Della sicurezza ferroviaria Ora Più di questo Più di sicurezza Insomma Perché questo passaggio A livello Che tutti conosciamo A Marotta Di Mondolfo È destinato Alla soppressione Però Insomma A dover prendere I sottopassi Per fare questo tratto Per andare dall'altra parte O viceversa Insomma Significa Complicarsi un po' La vita Perché non sono Proprio a due passi Insomma Vedremo Se arriveranno Questi soldi E si potrà fare Questo sottopasso Bocciodromo invece Siamo a Fossombrone Questo bocciodromo Che è fermo Ormai I lavori sono fermi Ormai da un po' Di tempo È un vero pasticcio Il sindaco Ascolti il consiglio comunale Lo dice Cipriani Del PD Metta ai voti L'acquisto di piscina e palestra I lavori sono fermi da un anno La maggioranza ha ignorato I nostri consigli Ancora velocemente La storia di questo ragazzo Un portiere di nome Matteo Vitali Che è campione del mondo Ha vinto nel calcio a 5 Per pazienti psichiatrici Con lo sport Ha superato le fragilità Emerse in passato La pagina di Fano A proposito di psichiatra Di psichiatria Tarcisio Ricoverato in psichiatria Per 72 giorni La sorella Carmela Dice ha ottenuto Le dimissioni Dopo altri mesi Di reclusione E poi ancora La vicenda Del rugo a Fano TV Voglio sia riabilitato Il mio nome Parla Antonella Zaccarelli All'udienza Davanti alla GIP Per la richiesta Di rinvio a giudizio L'incendio Venne appiccato All'esterno dell'emittente A marzo 2017 La procura punta Su una relazione Interrotta E poi L'ultima pagina È di sport Che riguarda La VL Il basket Stasera Costa Ario Costa Rassegna il mandato Il presidente Sembra ormai aver deciso Accetterà l'incarico Di direttore generale Della Lega Basket Gli scenari sono Apocalittici Il club potrebbe sparire O non iscriversi Al massimo campionato Chiedendo Alla federazione Di aiuto Retrocedersi Addirittura In serie A2 Questa era L'ultima notizia Della nostra Rassegna stampa Grazie per essere stati con noi Ci vediamo Questa sera Alle 20.30 Con occhio La notizia Del telegiornale Per le vostre segnalazioni Questo è il numero Da memorizzare Nel vostro cellulare Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti